Le immagini della esterna ITA 10 di Bologna coordinate dal regista signor Umberto Orti vi giungono dal paddock coperto dell'autodromo di Adria, siamo in provincia di Rovigo è stata una gara eccezionale partendo 23-26 e poi si è conclusa con una bella vittoria a Monza quindi direi che è stata una stagione che si è conclusa molto bene era partita con un grosso incidente e ci ha un po' condizionato però siamo riusciti a rimettere in piedi a queste ultime due o tre gare un bello slancio per proseguire poi parleremo anche del futuro ovviamente e siamo alla terza ripresa ottimo l'inizio di questo terzo round con il nostro Zamora che con il jab ha tentato mentre da parte dell'avversario parte un jab lunghissimo rimangono un po' fermi i due al momento adesso è Zamora, è una chiamata da parte del pugile Italo-Cubano ma la difficoltà di entrare ancora uno due in Zamora, tre serie velocissime non tutte precise sì direi che magari precisione c'era ma la difesa di Sikera è assolutamente imperforabile spesso riesce a chiudersi molto bene stinge bene anche i gomiti in maniera che neanche a vessaglio grosso c'è un pertugio devo dire che Sikera ha una faccia molto serena, tranquilla non è preoccupato del campione, diciamo del campione che si trova di fronte però è bravo, è ben impostato, veloce, il giusto Sikera e avanza, continua Zamora è il destro di Zamora, sul momento in cui Sikera si è sbilanciato, si è aperto è un momento favorevole al nostro atleta sì, riesce a portare alcuni colpi, poi ci sono scontrati è ancora è una bella testata destra attento Zamora perché da quella parte del volto c'è già un fiore anche se con il classico e terribile ferro ghiacciato che dolorosissimo, sappiate che è di un dolore tremendo sono riusciti all'angolo a tamponare, a togliergli il gonfiore ma è a vuoto, era andato Sikera, poi Zamora è rimasto lì e Sikera è arrivato a segno con un jab sinistro a vessaglio aperto praticamente 1-2, bello il gancino, ma il colpo è il colpo allora vessaglio grosso Zamora fatto bene perché deve pensare ogni tanto anche alla parte un po' molle del corpo ma soprattutto credo che lui tenti di far abbassare in che modo la guardia sentisse di Sikera che poi reagisce scambio da vicino il destro di Zamora con il quale chiude lo scambio ancora vessaglio grosso il nostro pugile che poi tenta di caricare ma reagisce bene anche Sikera arriva a segno un paio di circostanze un vessaglio grosso di Sikera che Zamora forse ha parzialmente sentito sì, è riuscito però ad evitare i colpi da vicino passandosi però questo sinistro al corpo non l'ha fegato, ha preso però questa è una buona ripresa per Zamora forse la più interessante sì, la parte iniziale del round perché adesso c'è stato sul finale proprio Sikera ha avuto la meglio ripresa per Zamora questa nettamente a differenza delle precedenti si parla di pugilato e si parla anche di vocazioni spesso noi ne parliamo ma nelle quattro ruote come andiamo con le vocazioni? ogni tanto nelle quattro ruote ci sono delle organizzazioni molto importanti perché adesso noi abbiamo tutta una serie di piloti così di nome tipo il Bruno Senna nel GP2 sta rientrando insomma uno poi abbiamo visto questa gara di Monza che oltre al mio pilota Valsecchi ha messo in mostra questo Vettel con la Torra Rosso che ha fatto una cosa straordinaria di giovani italiani ce n'è di vocazioni intendo secondo me l'unico italiano in questo momento qua in grado di essere veramente un campione è il mio Davide Valsecchi perché il campionato l'ha vinto Giorgio Pantano ma ormai 30 anni quindi diciamo che di grande esperienza ma ormai i problemi dei giovani un po' dappertutto perché noi nel pugilato ci siamo salvati alle Olimpiadi ma con pugili non giovanissimi assolutamente i giovani da noi hanno oltre 30 anni 28 anni per Camarella 25 per Russo però insomma i 21 anni i 20 anni siamo ancora dilettanti all'inizio di una carriera che inizia adesso diciamo e siamo alla quarta ripresa un incontro bello fino a questo momento anche perché i due pugili hanno un bagaglio tecnico abbastanza concreto nulla da dire è un match molto aperto diremmo asciutto proprio uno di quegli incontri dove si notano i colpi molto precisi molti perlomeno portati con energia ecco con la bellissima gaccia un gaccio secco stupendo è bello è venuto con un montante destro di Sikera doppiato invece immediatamente da Zamora si è preso subito comunque Sikera ma il gaccio sinistro di Zamora è stata una frustata stupendo stupendo secca e violenta e precisissima soprattutto in destra ancora di Zamora e lo sente Sikera ha sentito come no è rimasto lì ancora in destra di Zamora si difende Sikera si chiude tenta di fare passare la sfuriata del nostro pugile che forse non ha avuto la lucidità di aspettare un momentino di più è partito subito cercando di guadagnare e la sorpresa ha sprecato anche un po' di colpi e anche un po' di regie comunque è bene ha fatto un po' di bagarre ha fatto un po' di una serie di colpi in interrotta ha entusiasmato diciamo però anche che Sikera che Sikera ci sa fare si è ben difeso ha saputo difendersi si è ben difeso si è messo alle corne si è chiuso molto bene lo ha fatto il sinistro ancora di Zamora non era molto potente questo però preciso ha beccato il momento in cui Sikera era senza guardia ha ripetuto quello di prima un buon seguito peraltro qui qui ad Adria tante persone sono arrivate in questo paddock in questa zona un scenario tipico per il pugilato ovviamente è una quarta ripresa in cui Zamora ha messo il sigillo proprio all'incontro direi ci è voluto questo che Sikera dà la sensazione di essere un tantino in difficoltà fisica sì dimostrare che ha avuto la possibilità con questo colpo di dimostrare che lui è un tantino al di sopra di quello che è il valore del suo avversario che è un avversario direi parecchio di buon valore ma che Zamora ha voluto dimostrare proprio con questo colpo ripetendo ancora attenzione è il gancio però di Sikera segno ancora il destro di Sikera sul destro di Zamora non molla mica è andato a vuoto un destro di Zamora che si fosse arrivato ma a vuoto perché l'ha detto prima il destro di Sikera non forte ma preciso e Pugile che tra l'altro ha digerito in maniera notevole completa pressoché completa i colpi del suo avversario sembra di sì ripresa nettissima in favore di Zamora con due punti di vantaggio almeno poi vedremo questo gancio che Umberto Orti di sicuro ci riproporrà eccolo qua eccolo qua il momento in cui il sinistro eccolo qua eccolo qua era completamente scoperto ed il suo colpo è partito da una distanza ravvicinata non aveva una grande potenza di velocità ma preso al mento una precisione incredibile dal basso verso l'alto proprio molto bene era preso al mento poi ben preciso è una via di mezzo tra aggancio e un montante corto cortissimo montante poi il destro dopo a seguire anche quello destro buono che ha fatto pigare le gambe di nuovo alla Pugile Brasiliano insomma una ripresa molto pesante per Sikera al di là del punteggio credo che abbia minato un po' la resistenza e ha dimostrato che fino a quel momento diciamo eravamo così nella incertezza che ci fosse una netta superiorità da parte del nostro doveva ancora dimostrare qualche cosa l'ha fatto con quel colpo ed ora naturalmente potrebbe maravaldeggiare potrebbe arrivare a una risoluzione del match anzitempo ma ad ogni modo il Sikera è un buon atleta è un buon Pugile su questo quadrato quinta ripresa subito con Zamora che ormai sta controllando con ottima sicurezza il combattimento ma non soltanto per quanto raccolto nella precedente ripresa quanto proprio per un assetto mentale anche oltre che tattico sul quadrato perché Pugilato è fatto anche di impostazione e superiorità psicologica quella che in questo momento Zamora sta avendo al di là della superiorità tecnica che è dimostrato particolarmente nella ripresa precedente con l'atterramento con quell'atterramento Zamora può controllare il match quindi non esagerare il 1-2 ancora di Zamora il sinistro è entrato bene e poi il destro avanti il destro non completamente segna però ha seguito una buonissima azione da parte del nostro Pugile che come ho detto dovrebbe andare a questo è brutto questo è stato un gancio un gancio destro mi è sembrato diretto 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 proprio destro era di diretto destro pesantissimo il troppo dell'avversario violentissimo proprio dritto 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 colpo terribile un incredibile capo però questo segue è